Ha incassato i tributi dai contribuenti come da mandato, ma poi non li ha versati nelle casse dei comuni per conto dei quali agiva, bensì li ha prelevati per scopi personali dei propri amministratori. Una società di riscossione è stata per questo condannata per peculato e falso dal Tribunale di Pescara già nel 2020 ed ora è arrivata una sentenza della sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo della Corte dei Conti che la obbliga al pagamento dell'ingente danno erariale, materiale e di servizio arrecato agli enti locali. Il modus operandi della società di riscossione è stato portato alla luce da una indagine denominata Tax Gap, partita nel 2015 e condotta dagli uomini della Guardia di Finanza dei Popoli tramite intercettazioni telefoniche, pedinamenti, indagini finanziarie, perquisizioni e sequestri, un sistema già testato nel Lazio dove la medesima società aveva aperto una voragine da 2,4 milioni di euro. In Abruzzo vittime sono stati alcuni dei comuni della Val Pescara, Popoli, Turri Valignani e Letto Manoppello, i cui amministratori locali avevano denunciato il mancato introito dei canoni del servizio idrico, dei consumi di energia elettrica, degli affitti di alloggi comunali. Tra gli escamotaggi utilizzati, quello della pratica ancora aperta, quindi pur avendo incassato l'importo dovuto, la società faceva risultare come esistessero ulteriori debiti fittizi, così da tenere in sospeso il versamento delle somme ai comuni. E quello della compensazione, per cui i tributi da versare erano azzerati da crediti in realtà inesistenti, vantati nei confronti dell'ente, documentati da fatture già pagate o addirittura false. Il tesoretto di centinaia di migliaia di euro accumulato veniva poi prelevato in contanti, girocontato o addebitato su carte di credito. Per ripianare il buco finanziario e rimborsare i comuni privati delle ingenti somme, la Corte dei Conti Aquilana ha presentato ora un conto salato, avvalorando le investigazioni condotte dalle fiamme gialle del comando provinciale di Pescara.